Il motivo che si tende a stigmatizzare, a nascondere, ogni risultato che chi vive con questo morbo purtroppo si sente, la vedete qui no? Si sente come chiuso dentro una gabbia. Questo, questa sera, è un esercizio di empatia, una prigione, uno schermo. Voi ci vedrete sfocati e noi vedremo sfocati voi, per capire un po' che cosa si prova. Sicuramente non ci vedremo bene, però, signore e signori, questa è una canzone che si può cantare, può superare qualsiasi barriera. Io adesso vado là dietro, vado a sedere in postazione e voglio sentirvi cantare, dedicata a tutte le persone che vivono in questa condizione. Avrete già capito di che canzone si tratta? Ricordi! Ricordi! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti